In questo pazzesco momento di rialzo delle criptovalute ci sono state criptovalute altcoin che hanno alzato il loro prezzo in maniera esponenziale. Non parlo ovviamente solo di Solana, che ha avuto veramente un rialzo impressionante. È passato dai 17-20 dollari il suo range era quello, fino ad arrivare ai 60 dollari. Una cosa veramente fuori di testa. E tutto questo in due settimane. Peraltro, un'altra cripto che ha performato benissimo è stata Link. È passata veramente dal suo prezzo, intorno ai 7 dollari, fino ad arrivare ai 14. e raddoppiando il suo prezzo, se non moltiplicandolo anche per 3 quasi. Per cui ragazzi, queste criptovalute altcoin sono veramente salite di livello in maniera impressionante. Molte altre criptovalute sono salite seguendo l'onda di una altseason, che non è un altseason, ma seguendo un'onda di sell the news, ovvero delle news sugli ETF, ETF su Bitcoin ed Ethereum. Molte però sono cresciute meno del previsto, fortunatamente. Per cui ci danno la possibilità di investire in maniera ancora maggiore e poter prendere ancora più profitti all'interno del mondo delle criptovalute. Ebbene, in questo video ho elencato 3 criptovalute che non sono cresciute come le altre in questo momento e spero, dopo aver pubblicato questo video, che non siano ancora cresciute, in modo che anche voi possiate ragionare se investirci o no, ovviamente sempre da soli, mi raccomando, e non tramite i miei consigli e non tramite questo video, analizzandole una ad una e vedendo se i dati al suo interno sono corretti per poterci entrare. Ora, queste 3 criptovalute, rispetto alle altre, sono sicuramente criptovalute che hanno più margine esponenziale di crescita rispetto a quelle che sono già cresciute. Solana ha avuto un massimo di 260 dollari nell'ultimo bull market, mentre ora è arrivata a 60 dollari. Bene, investirci adesso sicuramente può dare dei grossi profitti, ma il suo livello di moltiplicazione, anche se dovesse superare il suo all-time, potrebbe essere inferiore su quelle di queste 3 criptovalute che vi sto per elencare. Voglio stonare che queste 3 criptovalute non sono cripto in trentesima, quarantesima, cinquantesima posizione, ma sono sempre state stabili in decima, massimo fino alla ventesima posizione, per cui sono cripto molto importanti. Per cui state con me e seguite questo video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io come sempre sono Michele ed oggi parlerò di criptovalute. Parlerò delle 3 migliori criptovalute, a mio modo di vedere in questo momento, su cui poter investire e che esponenzialmente possono dare di più il guadagno. Ora, queste 3 cripto sicuramente sono cripto importanti, ma non voglio spingervi io stesso, come detto in anteprima del video, ad investirci, per cui, ripeto, ragionateci voi. Prima ancora di iniziare sulla fiducia, vi chiedo gentilmente di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella e cliccare like. Oltre a questo, sempre qui sotto, canale Angry Crypto, ed in più, referral link di BitGet con un 10% di sconto sul trading spot. E cliccandolo e usandolo, aiuterete anche il mio canale. Ora, iniziamo subito. La prima cripto di cui voglio parlare è una criptovaluta che tutti conosciamo, non ha una blockchain pazzesca di quelle che ha sicuramente un'utility incredibile, ma è una meme coin. Perché questa cripto, solitamente durante il bull market, ovvero l'ultimo, è cresciuta tantissimo e in questo momento è rimasta sotto tono rispetto ai rialzi delle altre cripto. Sto parlando di Shiba Inu. Shiba Inu, la meme coin che tutti conosciamo, si è sviluppata molto nell'ultimo periodo, anche perché ha creato il cosiddetto Shibarium. All'interno di questo ci sono dei giochi riguardanti Shiba e molte altre possibilità di guadagno e di possibilità anche di fare burn di Shiba data dalla blockchain e dalla community che permettono di poter far crescere il suo valore. Non ha performato bene fino in questo momento, ovvero non ha avuto rialzi esaltanti, ha avuto comunque dei rialzi come tutte, sottolineo, ma i suoi rialzi futuri potrebbero essere veramente devastanti e di investirci in questo momento, da quel che vedo, potrebbe essere la cosa giusta. Ebbene, per arrivare al tanto sognato un dollaro bisogna bruciare, ovvero fare del burn dei token, perché i token sono veramente una cosa incredibile. Iniziato con un'offerta di un biliardo di cui il 50% è stato bloccato su Uniswap, mentre l'altra metà è stata bruciata fortunatamente dal fondatore di Ethereum, Vitaly Buterin. Attualmente ci sono 497 bilioni di token SHIB. E per arrivare all'un dollaro bisognerebbe bruciare il 99% di questi. È una cifra inimmaginabile, ma questo può succedere. Lentamente il burn sta continuando. Lo Shibarium infatti utilizza la moneta BONE come masterizzazione della moneta Shiba. Quando un utente infatti effettua una transazione sulla rete, la commissione base è bloccata su un contratto su Shibarium, mentre la commissione prioritaria viene pagata al validatore. Questa tariffa base verrà suddivisa in 70% burn e 30% accantonata per mantenere la rete. Una volta che si avrà accumulato 25.000 dollari di burn nel contratto, gli utenti possono avviare così il processo di burn vero e proprio dallo Shibarium. Infatti i BONE accumulati vengono inviati alla layer 1 di Ethereum, dove avviene uno scambio automatico con SHIB. Questo importo viene bruciato, richiamando così la sua funzione contratuale. Ma come può procedere questo burn? Grazie ai giochi, ovvero grazie ai Shiba Gaming, quei giochi che permettono di guadagnare e di scambiare Shiba, grazie a queste transazioni potrebbero essere bruciate degli Shiba Inu. Proprio nell'ultimo mese infatti è uscito Shiba Eternity, un gioco play to end, basato essenzialmente su carte collezionabili e sviluppato dal team Shiba Inu in collaborazione con PlaySide Studios. Tutti i giocatori ricevono eroi chiamati Shiboshi e per vincere i combattimenti possono lanciare incantesimi sui rivali o usare le carte per distruggerli. Anche in questo caso verranno bruciati alcuni Shiba grazie a determinati meccanismi al suo interno. Ora però vi voglio parlare del terzo modo per bruciare Shiba. Quello di comprare del merchandising con il token Shiba Inu e grazie a queste transazioni anche in questo caso bruciare dei token Shiba. Terza cosa che permette il burn è sicuramente quello dello shop online di vario genere, non di merchandising come in precedenza, ma qualsiasi tipo di acquisto che possa essere fatto con il token Shiba. Ecco, se faranno burn anche in questo modo, il burn potrà aumentare di moltissimo. E per ultimo caso sicuramente quello delle collaborazioni. Le varie partnership all'interno della blockchain Shiba Inu potrà permettere un ulteriore burn. E anche questo potrebbe aiutare ad arrivare al tanto agognato un dollaro. Voglio ricordare che questo è il prezzo di Shiba Inu al momento e che quindi per arrivare ad un dollaro ci vuole molta, molta strada. Ma sognare è sempre lecito. Ora passiamo alla seconda cripto che potrebbe veramente esplodere che in questo momento non sta performando nel migliore dei modi. Parlo di Ada Cardano, l'Ethereum Killer. Forse una delle cripto più importanti all'interno dell'ecosistema e forse anche quella strutturata nella maniera migliore. Questa criptovaluta ha sempre performato in maniera esplosiva all'interno del bull market e ha portato veramente a chi aveva puntato su Ada ad avere dei guadagni stratosferici. Nell'ultimo periodo Ada Cardano è cresciuta del 16%, non è cresciuta tantissimo. Eppure ci sono stati grossi cambiamenti all'interno della sua blockchain. Ad esempio l'Ada Cardano Foundation ha deciso di diminuire le fee sullo staking. Le fee di transazione medie infatti sono passate da 340 dollari a 170 dollari. E questo grazie all'ultimo sondaggio nel min pool cost. Gli obiettivi principali erano due. Il primo, che l'aggiornamento Shelley andassi bene, ovvero quello contro gli attacchi Sibyl. Termine tecnico, per carità, all'interno del mondo della blockchain e informatico, per cui magari non sto qui a spiegarvelo. E il secondo era garantire un reddito minimo a coloro che agivano all'interno dei mining pool. E era una cosa ovvia da fare, per far sì che l'ecosistema sia sicuramente più strutturato e più solido. Tutto questo ha portato a un'impennata del 49% all'interno della blockchain di azioni sulla blockchain di Cardano. Ovvero che all'interno di un blocco si raggiungesse il 50% nel corso del trimestre, in più rispetto al trimestre precedente. E i dati al suo interno fossero l'81% maggiore rispetto a maggio. Non è finita qui, infatti, gli smart contract creati all'interno di Cardano sono come numero quelli maggiori all'interno di tutte le criptovalute esistenti. Si parla infatti di 500 applicazioni create solo in questo trimestre. Dopo Cardano sono Dot e Kusama, le blockchain con più creazione all'interno del loro ecosistema di applicazioni decentralizzate. E in questo caso è proprio di Dot che voglio parlare come terza moneta che può performare nella maniera maglione. Dot la conosciamo un po' tutti. Se non la conoscete ho fatto anche un video di approfondimento lo lascio qui sotto in descrizione. È sicuramente una cripto molto, molto importante e molto futuristica. Una multi-chain che vuole far sì che tutte le chain presenti all'interno dell'ecosistema siano collegabili tra di loro e utilizzabili tramite un'unica chain. Ebbene, queste multi-chain collegate permetterebbero un miglioramento esponenziale sull'utilizzo a 360 gradi del mondo cripto. Si potrebbe utilizzare ad esempio la velocità di transazione di Solana e allo stesso tempo utilizzare anche la veridicità di informazioni grazie alla blockchain di Chainlink. Insomma, una fusione in tutte le cripto grazie a una multi-chain, ovvero la blockchain di Solana. All'interno ci sono anche le parachain e molto altro. Non sto ad approfondire in questo momento il discorso perché è un discorso molto lungo ed esplicativo, ma sicuramente voglio aggiornarvi sulla collaborazione secondo me importantissima che ha fatto che potrebbe permettere al suo prezzo di decollare in un futuro non troppo lontano, anche grazie come sempre al bull market. Innanzitutto però, prima voglio dire che sono stati creati 380 nuovi progetti all'interno di Polkadot e questa è una cosa veramente molto importante. La collaborazione però da sottolineare è quella tra Dega e Unit Network. Unit Network è la parachain all'interno dell'ecosistema Polkadot, la sua cosiddetta rete. Ecco, questa ha fatto una collaborazione con Dega. Dega è un'azienda di Web 3.0 che permette a tutti i programmatori di poter sviluppare gaming del Web 3.0 all'interno di questa. Questa collaborazione all'interno di Polkadot vuole sfruttare il potenziale delle ISPO, ovvero l'Initial Stake Pool Offering. Dega, infatti, ha un approccio di distribuzione e ricompense molto diverso rispetto alle altre piattaforme perché al posto di premiare i deleganti premia tramite ricompense la piattaforma stessa. Garantisce così molta, ma molta, più sostenibilità. Questa collaborazione è veramente importante anche se è passata sotto tono. Poi sappiamo la grandezza di Polkadot. All'interno, infatti, si può sviluppare qualsiasi cosa dagli NFT, grazie alla rete Quartz all'interno di Polkadot stessa, giochi Games Web 3.0 e grazie a Dega sarà ancora più semplice e qualsiasi, veramente qualsiasi, collaborazione con altre chain. Secondo me è un progetto veramente fortissimo, però è un progetto tra taruga, ovvero inizia piano ma costante e continua perennemente a migliorare anche se sotto tono. Nell'ultimo bull market è cresciuta molto, è arrivato intorno ai 36 dollari. In questo momento non siamo nemmeno vicini al suo all-time, ma se proprio devo dire come potrebbe essere il suo futuro, questa è la classica cripto che potrebbe letteralmente esplodere data l'importanza di riuscita, se riuscirà veramente ad espandere il suo ecosistema, di la sua blockchain in futuro. Per cui ragazzi, teniamo sempre gli occhi aperti. Ora, sicuramente conoscevate tutte e tre queste cripto, sicuramente conoscevate anche la loro situazione, ma ho voluto sottolineare che la loro performance non è stata buona come le performance delle altre criptovalute e questo deve essere una cosa positiva per noi perché ci permette così di investire nel loro ecosistema prima che il prezzo sia troppo alto. E' veramente una fortuna. Infatti io non spero che le altcoin crescano ancora in questi mesi, ma anzi spero in un ulteriore di basso, anche se sono abbastanza dentro con i pack. Questo non è un problema perché come sempre il mio obiettivo è a lungo periodo, ovvero dopo halving. Grazie per la visione. Qui sotto scrivete nei commenti che cosa ne pensate voi di queste tre cripto. Se ci sono altre cripto che secondo voi non hanno performato nel migliore dei modi e potrebbero esplodere e potrebbero essere sfruttate in questo momento, un saluto da Michele, al prossimo video, un ciao a tutti quanti. Ciao!